Ciao, mi chiamo Graziella, e in questo video voglio condividere la mia esperienza con l'utilizzo dell'IndivaSystem in due mesi, e spero che possa aiutarti a decidere se vale la pena acquistarlo o meno. Innanzitutto, se vuoi davvero acquistare IndivaSystem, fai molta attenzione al sito web del prodotto, perché ci sono molti ciarlatani su internet che vendono copie del prodotto, e per aiutarti ti lascio il sito ufficiale IndivaSystem qui sotto nella descrizione del video, così, ho deciso di acquistare l'integratore IndivaSystem, perché avevo a che fare con la difficoltà di guarire piccole ferite dovute a glucosio alto, vista compromessa, mancanza di energia, secchezza delle fauci e voglia incontrollata di urinare, mi sentivo già molto male, quindi ho deciso di fare un tentativo. E fondamentalmente l'IndivaSystem, contiene molte vitamine e altri composti che servono a curare la glicemia, migliora il metabolismo, rimuove le tossine dal sangue, normalizza la pressione sanguigna, e questo ha notevolmente migliorato la mia disposizione, eliminato il dolore e i disagi che provavo. Ero molto indeciso sull'acquisto dell'IndivaSystem, ma quando sono entrato nel sito ho visto che più di 20.000 persone avevano utilizzato l'IndivaSystem e i risultati erano davvero notevoli, quindi ho pensato che potesse funzionare anche per me. Quello che mi è veramente piaciuto di IndivaSystem è che è naturale al 100% e molto facile da prendere. Usarlo correttamente aiuterà a normalizzare il glucosio, dormire, migliorare la guarigione delle ferite, porre fine al malessere e anche aiutare a controllare il peso. Confesso che il vantaggio in termini di costi è molto buono e allettante tenendo conto degli alti costi delle cure mediche. Ho passato anni con questo problema e ho finito per privarmi di tanti bei momenti, per paura di mangiare dolci e ammalarmi. Ora che ho fatto il trattamento con IndivaSystem, mi sento molto meglio e soddisfatto dei risultati. Il IndivaSystem è così buono ed è stato clinicamente dimostrato che funziona indipendentemente dalla tua età, condizione medica o gravità del tuo problema. Solo chi ci è passato sa quanto sia difficile ed ero molto preoccupato per il mio problema. Odio andare dal dottore e sono sicuro che non avrei soldi per un trattamento costoso, ma grazie all'IndivaSystem ora va tutto bene. Ho corretto i problemi che mi davano tanto fastidio. Le mie notti di sonno sono migliori e più sano. Fai attenzione a quello che dicono qui su internet su IndivaSystem, dicendo che otterrai i risultati molto rapidamente quando dipende davvero da ciascun organismo. Alcune persone vedono i cambiamenti più velocemente, mentre altri potrebbero impiegare più tempo per vedere i risultati. Questo non accade miracolosamente. È necessario fare il trattamento corretto per almeno due mesi per avere risultati espressivi. La cosa interessante è che IndivaSystem original è naturale, non ha effetti collaterali ed è stato adeguatamente testato e approvato. Ma ti avverto ancora una volta. Fai molta attenzione ai truffatori su internet che cercano di vendere prodotti contraffatti con formule alterate che potrebbero danneggiare ulteriormente la tua salute. Lascio il sito ufficiale IndivaSystem qui sotto nella descrizione del video e nel primo commento. Spero di averti aiutato con questo video, e se ti ha aiutato, lascia un mi piace e condividi con qualcuno che sta cercando di migliorare la propria salute con un integratore naturale. Abbraccia e a presto.